Miriam Leone sceglie la luce, il suo selfie su Instagram è un trionfo Miriam Leone ha una lunga storia d'amore con la luce, sul suo profilo Instagram sono numerosi selfie che la ritraggono mentre la sua pelle candida è illuminata dai raggi del sole Questa volta la foto pubblicata la ritrae in piedi, all'interno di una stanza affrescata, mentre guarda fuori dalla finestra, condividendo con i fan alcune sue riflessioni personali. La sensibilità e l'attenzione per i dettagli dell'artista sono la ricetta vincente del suo profilo Instagram che è seguito da più di 370 mila persone Ogni giorno i suoi fan la riempiono di like e commenti per il suo talento, ma soprattutto per la sua naturale bellezza, non c'è dubbio che Miriam sia diventata anche un'influencer, oltre che un'attrice di grande livello Il selfie con la luce e la domanda ai fan In quasi tutte le sue foto, Miriam Leone rivolge ai propri fan delle domande oppure condivide con loro riflessioni personali su ciò che gli accade durante le giornate e su temi esistenziali Una delle ultime foto pubblicate dalla star è un selfie e mentre lei guarda la luce dalla finestra di una stanza affrescata, l'attrice è in piedi, indossa un maglione bianco e porta i capelli rossi sciolti, mentre con una mano si accarezza in modo delicato una ciocca Il suo viso è completamente illuminato dalla luce e ha un sorriso molto dolce e rilassato. Nella caption la leone chiede ai fan che cosa vedano mentre la guardano, seguita dagli hashtag cancelletto luce cancelletto meraviglia cancelletto come un tempio La domanda ha scatenato centinaia di risposte da parte del pubblico che la segue, alcune delle quali la paragonavano a un quadro di Caravaggio per la sua estetica impeccabile e per l'armonia della luce Non c'è dubbio, Miriam Leone sa come conquistare i propri fan e per questo oltre che essere un'attrice di talento e di grande successo, è anche una trendsetter e una influencer Miriam Leone e la sensibilità anche sui social Una delle principali caratteristiche che contraddistingue Miriam Leone è la sua sensibilità, anche sui social l'attrice non manca mai di condividere dettagli o pensieri che facciano riflettere il proprio pubblico Anche per questo le persone la amano e la seguono assiduamente, riempiendola di like e commenti Prima del selfie con la luce, l'attrice aveva pubblicato una foto di un melograno e di una pianta, celebrando la bellezza dell'autunno In seguito aveva pubblicato uno screenshot dell'articolo 19 della Costituzione italiana, schierandosi contro l'omofobia e sottolineando l'importanza della libertà d'opinione che ha ogni individuo Pochi giorni fa inoltre, aveva già pubblicato un selfie mentre era baciata dalla luce e anche in quel caso, aveva riscosso un enorme successo, l'attrice era sdraiata seminuda, mentre si copriva il seno con le mani e si godeva il calore del sole, tenendo gli occhi chiusi I fan sono letteralmente impazziti con più di 37.000 like e oltre 300 commenti Miriam Leone sa essere sensuale e provocante, senza esagerare, ma soprattutto sa aprirsi con il pubblico del web rendendolo partecipe della sua vita privata e dei suoi pensieri, questa è la formula del suo successo su social Iscriviti al nostro canale